Anna Pepe mandami la foto dei piedi, ti scongiuro, sono esausto. Se dai a tuo figlio 10 euro per ogni voto di 10 preso a scuola, svilupperà una mentalità da dipendente. Se invece darai 10 euro a tuo figlio per ogni libro di educazione finanziaria letto, e che sia letto davvero, svilupperà quindi una mentalità imprenditoriale. Signora, signor, signor asterisco, mio figlio va all'elementario, non riesce a leggere i libri di educazione finanziaria, mi perdoni. Ma poi secondo qua, a parte che questi profili veramente che copia e incollano i video americani, anzi alcune volte ho visto che si copiano pure tra di loro, cioè non li capisco. Secondo voi ci credono veramente alle cose che dicono, ma secondo te, cioè, a tuo figlio devi dare un 10 euro se si legge i libri di educazione finanziaria, che sviluppa la mentalità da imprenditore. Cioè, ma poi scusami. 10 euro a tuo figlio per ogni libro di educazione finanziaria letto, e che sia letto davvero, svilupperà quindi una mentalità imprenditoriale. Hai ragione, sono totalmente d'accordo, mio figlio dovrebbe non studiare e passare tutto il tempo disponibile che ha, non a godersi magari la sua infanzia o la sua adolescenza e preoccuparsi dello studio, ma a studiare per prendere buoni voti a scuola e a studiare educazione finanziaria. Assolutamente, magari leggersi interi libri di educazione finanziaria che va tipo alle medie o alle superiori, che non so come uno delle medie o delle superiori sia in grado di leggere dei libri veri di educazione finanziaria, non quelli che fanno i guru, che te li vendono su internet con i loro web corsi, che ti fanno diventare ricco in 10 giorni. Ecco, gli effettivi libri di educazione finanziaria, guarda se vuoi ho un libro di diritto aziendale, qua ti faccio vedere che è un libro di economia aziendale, ok? Di Giovanni Battista Alberti Le funzioni amministrative e le funzioni produttive del loro insieme rappresentano l'intera gamma delle funzioni svolte in azienda. Esse sono, peraltro, logicamente distinte in quanto le funzioni produttive sono caratterizzate dalla modificazione dei fattori di produzione, per cui attraverso le stesse è squisitamente teorico. Ecco, ho aperto una pagina a caso del libro, una delle prime, tra l'altro. C'è uno delle medie che capisce di questa cosa. Sì, magari è super portato, ma una persona normale semplicemente legge questi libri capirà un decimo delle cose perché gli mancano le basi di economia o di diritto, cioè, che cazzo ne sa, senza offesa. Trucchi psicologici. Prova a dire questo al tuo migliore amico, non prendere sul serio tutto ciò che dico tranne l'ultima frase. Lo farà pensare, ma che cazzo di roba è? Questi non sono trucchi psicologici. La psicologia non è questo, cioè, la psicologia non sono gli aforismi. Se qualcuno ti urla al telefono, resta in silenzio a lungo. Quella persona si sentirà in colpa e si scuserà con te. Ma assolutamente non vero, bro, ma stiamo scherzando. Ma che razza di consigli sono? Ma queste cose non hanno il minimo senso. Se sussurri a qualcuno, l'altra persona ti risponderà sussurrando, anche se non c'è motivo di farlo. Neanche questo non è vero, non sono né trucchi psicologici, né trucchi in generale che funzionano o che hanno senso. Se mi segui probabilmente non ci vedremo mai più, quindi ti auguro il meglio. Il tuo atteggiamento decide il tuo successo, non gli altri. Due più uno uguale tre, vabbè. Ok, ottima frase, ma l'immagine è topo bumerata. Non voglio nemmeno... Questa è Veneta, questa è Veneta. E comunque si costano tanto perché pagano un sacco di spese all'aeroporto. Scusami, ma cosa c'è? E devono esserci i controlli e tutto. Beh, la ragione principale sono i costi. Perché gli spazi commerciali negli aeroporti pagano molti soldi per l'affitto. Inoltre per motivi di sicurezza dobbiamo quindi selezionare il personale e i loro costi sono ancora più alti. Per non parlare poi che tutto il nostro inventario deve passare all'aeroporto. Sì, allora, ascolta. Sì, ok, è tutto vero, tesoro. Non so da chi hai preso questa roba, ma è anche perché solitamente... Cioè, pensa a dove cazzo sta un aeroporto. È messo in un posto dove non ci sono case e altri negozi vicino. Perché lì volano gli aerei. Cioè, anche solo decolando fanno tanto rumore, fanno un botto di rumore. E deve esserci uno spazio bello largo. E quindi c'è anche un mero discorso. Oltre che per i costi, che effettivamente è vero, c'è un mero discorso di non hai competizione. Cioè, quello è fondamentale. Non devi essere un aeroporto. Se sei l'unico che vende una determinata cosa in una città, una cosa magari fondamentale. Cioè, se c'è solamente un supermercato, puoi sicuramente... In quel determinato quartiere sei l'unico supermercato. Sei l'unico posto nel quale la gente può comprare il cibo. Puoi sicuramente alzare di molto i prezzi. E mi dispiace, ma l'aeroporto non ha competizione. Cioè, se tu non ti sei portato da mangiare e vuoi prenderti qualcosa da mangiare lì, è l'unico posto in cui lo puoi andare a prendere. Quindi possono tranquillamente alzare il prezzo. Però mi rendo conto che per degli esperti di marketing, questo piccolo concetto così contorto... Ma Amon Gas... Ma cosa ti prende? Bro, Amon Gas nel 2022, ma che succede? La mia vita non ha nessun senso. Non capisco, come puoi dire una cosa simile? Passo la mia maggior parte del tempo al lavoro. L'umore... Lasciamo stare perché ogni volta che torno a casa mi girano le... Non sono mai a casa e dovrei stare così fino a 65 anni. Magari. Sì. Questi sarebbero gli anni più belli della mia vita. Ah, io invece li sto trascurando. Non ho mai tempo per me. Ok. Adesso ho capito. Ma scusa, perché è una strada così pericolosa? Lasciami un attimo chiamare per piacere. Magari mi rispondono. Lasciami stare. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma perché non vuoi trovare il nostro metodo? Non ti ha colpato? Ah, beh. Persone che sentivano di valere di più. Ovvio. Ovviamente. Perché questo può stravolgere la tua vita. Però la differenza è... Che le alternative le conosci già? Ah, beh. Non perdere l'opportunità. Emoticon da boomer. Top. Come si fa ad avere più info, bro? Guardate, voglio vedere il videocorso. No, perdonatemi. Sono curioso adesso. Ah, per lo stesso. Vicenza, vabbè, chiaramente. Imprenditrice, membro di cashflow, startup. Vabbè, ci sta. Contattaci su Watch. Impara a risparmiare chi siamo, vabbè. Quelli che fanno ste cose sono principalmente... quasi gli unici che ci guadagnano su sta roba. Quindi, ok. Cioè, voi pagate dei soldi per dei corsi, dei guru, che fanno ogni video, la roba con il green screen dietro? Cioè... Ti rendi conto che questo è un green screen, è un'immagine presa salotto, persona ricca su Google, download foto, green screen di... Cioè, voi veramente date i soldi alle persone che... Sì, per diventare povero, praticamente... Vabbè, sono scelto. Due, mi raccomando, sentiti indebitato fino all'osso, fai il mutuo per la casa, il prestito per la macchina, il prestito per la moto, per andare in vacanza... Bro, non... Cioè, questi sono proprio consigli che sono meramente teorici. Una persona deve scontrarsi anche con la realtà. Se esiste il mutuo e se è una cosa che viene fatta, a parte che in alcuni casi non hai scelta. Cioè, non è che decidi tu se fare o meno il mutuo. Però, sicuramente, chi ha 400.000 debiti non si indebita ulteriormente per andare in vacanza. Cioè, queste sono robe, capito, assurde. Non incontrare mai nella vita reale qualcuno che non ha nemmeno i soldi per pagare le rate dell'auto e che decide di andare alle Maldive. Primo. Secondo, se uno, ovviamente, si indebita, chiede dei soldi, eccetera, eccetera, sicuramente... Poi, ovvio, ci sono modi e modi. C'è gente che ha effettivamente un problema che proprio non è in grado di... Però, nella quasi totalità dei casi, nel 99% dei casi, sono effettivamente persone che hanno bisogno e che non hanno altre alternative. Cioè, così sono bravo anch'io a dire... Bro, non ti ammalare. Però è un po' diverso. Vuoi sapere come riuscire a debitare le critiche? Non fare niente. Non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla. Vuoi sapere come... Ma, ma, ma... Dicono che i giovani non vogliono lavorare. Chiedono sempre, quante ore devo lavorare? Dove sapere qual è il rischio? What? Dicono che i giovani non vogliono lavorare. Ma? Chiedono sempre, quante ore devo lavorare? Perché si sente sempre così basso? Quanto mi paghino questi giovani? I giovani vogliono lavorare. È solo che... Sì, bro. Se i giovani ti chiedono quanto devo lavorare e quanto mi paghi allora, non ti sta chiedendo niente. Cioè, se fai l'imprenditore, o vendi baci e abbracci, o ti rendi conto che stai praticamente guadagnando soldi, investendo soldi. E l'investire soldi fa parte anche del pagare i tuoi dipendenti. A parte che, sì, è minimo, proprio la decenza minima. Cioè, se uno ti chiede, cioè, non siete amici? Cioè, non state andando a prendere una pizza insieme? Uno viene a lavorare da te perché vuole, cioè, vuole una formazione anche, ci sta, e vuole uno stipendio. Cioè, secondo te la gente va a lavorare perché non sanno che cazzo fare durante il giorno? Cioè, se tu hai un'impresa, se tu sei, ma una qualunque cosa, se tu hai un ristorante, una pizzeria, cioè, scusami. Cioè, i clienti allora si dovrebbero incazzare quando tu gli porti il conto. Perché, ah, questi, questi ristoratori che portano lo scontrino, che ci portano il conto, ah, pensano sempre a pagare. Ma, scusami. Ma che cazzo di ragionamento è? Cioè, vabbè. Sono intrappolati in un sistema che gli danno solo due opportunità di scelta. Ma perché c'ha sempre il green screen dietro? Scuola, diplomati, prendi la laurea, e così riuscirai a ottenere un lavoro da 1300 euro al mese. Se, invece, vieni bocciato, ti sei rovinato la vita, ti hanno indotto a credere. Vabbè, se vieni bocciato, perdi un anno, poi vuoi continuare con il tuo percorso di studi. C'è tanta gente che viene bocciata e comunque va avanti, si diploma, si laurea, non è una bocciatura. L'essere fuori corso che ti distrugge la vita. ...che devi assolutamente sfruttare la prima possibilità che ti viene offerta. Non ci vuole quindi un genio a capire che il sistema scolastico sta facendo fallire ogni giorno sempre più ragazzi. Ah beh, giusto, dall'economia alle perle di pedagogia. Sono certo che persone, visto che abbiamo fatto il discorso, vi ricordate il video di Awed, quello incredibile in cui si parlava della produzione, eccetera, eccetera, in cui avevo detto che la scuola è effettivamente l'unico posto in cui tu puoi imparare per il semplice gusto di imparare, cioè tu puoi coltivare il tuo essere, un essere umano per quei pochi anni in cui rimani a scuola, perché appena esci da scuola devi pagare le tasse, devi guadagnare, devi lavorare, devi gestire trentamila cose e vieni considerato dalle persone con cui ti interfacci per la maggior parte del tuo tempo, semplicemente come qualcosa che può produrre, che può far guadagnare o sul quale loro devono spendere. Ecco, è sempre bello sentire dagli imprenditori i consigli su come dovrebbe essere gestita la scuola, dato che tutte le scuole, cioè, sì, capisco se è un discorso fatto da un professionale, ma in un istituto professionale comunque già si applica, perché sto argomentando? Cioè, perché sto argomentando? In un istituto professionale già vai lì, studi una professione, studi un mestiere, lo vai a fare, scusatemi. Cioè, sembra che queste scuole, sembra che esistano solamente il liceo classico, lo scientifico. Eppure a livello di licei, ci sono tanti licei che ti possono già introiettare nel mondo del lavoro, ma perché? Cioè, perché continuare sempre a spingere di più la scuola per un... creare delle persone che devono andare a lavorare. A sto punto fagli fare le medie, fagli fare un anno di formazione e spediscile a lavorare a 15-16 anni. Ma sono serio? Cioè, se è questa la mentalità, ma andiamoli direttamente a lavorare? Cioè, se a scuola non vogliamo anche insegnargli la bellezza, non vogliamo insegnargli... Ma proprio, cioè, non parlo dell'art, cioè, ma anche la bellezza della matematica, delle materie scientifiche, cioè, che abbiano un minimo di... un minimo, proprio, di concezione di che cazzo sono determinate cose, in modo che non siano dei completi spaesati. Anche di educazione economica, che ci vorrebbe sicuramente, ma... Bro, i pedagogici... cioè, scusatemi, gli industriali che danno lezioni... No, a parte che industriali, imprenditori che danno lezioni di come dovrebbe essere la scuola, non ce ne sono. Sono sempre i guru sui social che ti danno lezioni su come dovrebbe essere la scuola, perché dall'alto dei loro studi, delle loro indagini, cioè... Fanculo Dewey, Amalia Montessori, quell'altro coglione socialista, con tutto il rispetto e l'amore del mondo, che si mettono lì, che studiano il comportamento dei bambini, cioè, anche dei bambini e dei ragazzi, che provano a vedere quali sono i metodi migliori per farli imparare meglio, che hanno tutta una filosofia legata al... che tipo di individui, di cittadini vogliono creare, quindi come deve essere... affanculo quella merda, dai ragazzi, insegniamo a sti qua come spostare i pacchi, come compilare le fatture e basta, e mandiamoli affanculo un cazzo... vabbè, non so. Non è vero che i ragazzi sono pigri, che non hanno assolutamente voglia di lavorare. I ragazzi hanno bisogno di una direzione corretta da seguire. Mi ricordo che quando andavo a scuola, stavo chiuso a sei ore nella stessa stanza. Quando chiedevo come mai dovesse studiare... Beh, quando invece stai in ufficio, stai chiuso sei ore nella stessa stanza. LOL. Giustamente, se hai un'azienda, tu... cioè, sei Elon Musk, no? La persona normale che c'è l'azienda vola, va, lì non stai in ufficio a rispondere alle mail, alle chiamate, le forniture, gli stipendi, compilare... Vabbè, puoi delegare qualcosa a qualcuno, ma anche tu le robe le devi fare. Però sì, ok, giusto, facts. La scuola è l'unico ambito nella tua vita in cui starei chiuso per sei ore. Cioè, minchia, sei ore col cazzo. Non c'è un posto di lavoro in cui lavori per sei ore, lavori per otto, nove ore minimo. Ho il coraggio di sbattere nel faccio la risposta perché devi. Perché quando finirai gli studi e riuscirai a trovare un lavoro, dovrai pagare le tasse e perpetuerai questo sistema di servitù in contratualizzata. Ma ragazzi, hai bisogno di un sistema che funzioni adesso, non quello di 50 anni fa. Il mondo, tuttavia, è cambiato tantissimo. La sua proposta è non dare nessuna proposta, non spiegare concretamente come fare le cose, ma dire che tutto è una merda, che è vecchio, che va male. E poi, la cosa bella di questi guru è che loro dicono sempre, loro, ma anche i ragazzini che gli vanno dietro, che la scuola è una merda, che la scuola non va bene così. Poi appena gli chiedi, ma tu nel concreto cosa vorresti fare nella scuola? Ti danno tutte delle risposte che poi non sono attuabili, tipo, eh, dovrebbero proprio fare dei corsi di economia. Ok, cosa facciamo? Dobbiamo, o togliamo determinate materie, o chiediamo agli studenti di fermarsi una o due ore in più a settimana, cioè ogni giorno, perché dobbiamo aggiungere determinate materie che volete aggiungere, educazione finanziaria, economia, yoga, quel cazzo che volete. Eh, però agli studenti non va bene fermarsi una o due ore perché devono studiare una materia in più e devono rimanere una o due ore in più a scuola. C'è chi abita lontano, deve prendere il bus, c'è chi deve fare quello, c'è chi deve fare quello, c'è chi non vuole farlo. Allora, no, giustiamo, togliamo delle materie. Eh, però non gli va bene, perché se togliamo matematica, poi che cazzo sanno fare solamente le moltiplicazioni e le addizioni e appena nella vita si trovano un calcolo un pochettino più difficile, una roba un pochettino più difficile. Che materia vogliamo togliere? Vogliamo togliere storie? Vogliamo togliere letteratura? Vogliamo, cioè, da che punto di vista culturale li vogliamo rendere degli ignoranti per aggiungere le materie che volete aggiungere? E poi ci si rende conto che, minchia, nel mondo degli ideali, delle cose belle, tutti saprebbero come cambiare la scuola, tutti saprebbero proporre che cazzo bisogna fare, ma poi quando c'è da attuarlo o i professori non ce la fanno materialmente, perché anche loro sono degli esseri umani e anche loro fanno degli orari bestiali, considerate che lavorano, che quasi, quando di solito gli studenti finiscono per andare in vacanza, la maggior parte dei professori deve fare la maturità, poi devono tornare prima perché devono preparare il programma, poi devono fermarsi dopo, devono fare i corsi, alcuni fanno i recuperi, altri devono fermarsi per gli scrutini, per le cazzate, e il professore non va bene, e invece quell'altra cosa, il professore va bene, ma gli studenti non va bene, quell'altra va bene, il professore e gli studenti, però non ci sono i soldi per farlo, non ci sono le cose, cioè, sì, boh, è sempre così il discorso in Italia, cioè, tutti sono bravissimi a dire cosa non va nella scuola, ma appena gli chiedi nel concreto cosa si potrebbe fare per mettere d'accordo le persone, nessuno sa cosa fare, cioè, nessuno ti dà una soluzione vera, una risposta vera. È morta! L'ho presa! Oh, shit! Fa un c***o, puttana! Ah, puoi succhiare quest'altro. Ciao a tutti. Questo video credo che sia demonetizzato e non c'è un altro perché è molto vecchio, volevo solamente chiedervi di abbonarvi al canale se volete vedere le live complete e supportare quello che faccio e di mettere mi piace al video se volete vederne altri, se vi è piaciuto e lasciare un commento facendomi sapere che cosa ne pensate al riguardo. Ma il sistema scolastico è rimasto uguale ed è vergognoso perché nessuno dice niente. Ma non è vero, nessuno dice niente, tutti si lamentano della scuola, cioè, capito? Tutti dicono che la scuola non va bene, cioè, questo è il punto, è che è facile lamentarsi che le cose non vanno bene, però ogni... cioè, le robe sono così complicate che ci sono sempre le persone che devono dare queste risposte semplicistiche, su come migliorerebbero loro la realtà, però, merda, se le cose fossero così facili che ci arriva uno su TikTok, secondo te non ci arrivano altre persone che studiano queste robe tutta la vita? Dove sapere qual è il rischio più grande? L'epatite B. Non rischiare mai. Dove sapere... Ah, ok, anche quello, effettivamente. Tre cose che i soldi non possono comprare. Vai. Uno. Vabbè. Wow, stai cercando un lavoro da fare a... Ma allora vedi che sai utilizzare questo c***o microfono, santo c'è la... In caso in questo momento di crisi magari non hai tanto tempo oppure vorresti una seconda e è entrato un secondo guadagno? Certo, ma me lo stai anche chiedendo. Possiedi uno smartphone e una connessione a internet? Beh, se tutto quello che mi serve è un telefonino e una connessione, è ovvio che ce l'ho. Fantastico! Allora sai... No, sto guardando un video su TikTok grazie alla telepatia. Oddio mio. Vabbè, dai, basta. E mettete like a questo video se volete diventare degli imprenditori e ogni commento che lasciate sarà un'entrata aggiuntiva passiva che vi sarà offerta. Ogni entrata... Che che... Oh, scusate. Ogni commento che lascerete sarà un'iscrizione al mio webinar. Scrivete nei commenti mi iscrivo e... e fate dei riferimenti ai più famosi casi di cronaca e... ai più famosi serial killer italiani per poter accedere al mio webinar gratuito. Grazie mille a chi è iscritto al canale. Un bacetto. Mi si vuole bene. Love you. Quari fatati. Le stelle. Le voglio bene. Ci vediamo in un prossimo video. O in live. Se avrete voglia. Sono molto meno simpatico di quello che sembro, ragazzi. E soprattutto molesto la mia ciao. Allora... Grazie.